Un protocollo d'intesa per la piena applicazione delle norme in materia di tossicodipendenze al contrasto dei fenomeni legati ad altre forme di dipendenza e disagio minorile nell'ambito scolastico. Il progetto è stato avviato su proposta del procuratore presso il tribunale dei minorenni di Messina sviluppato dalla prefettura e condiviso dal ministero dell'interno. Su questo punto si è discusso al palasso del governo in un incontro presieduto dal prefetto di Messina Maria Carmela Librizi. Sono intervenuti magistrati e dirigenti dei servizi sociali e rappresentanti del mondo della scuola di Messina e provincia. È stata sottolineata l'esigenza di realizzare una rete integrata a tutela dei minori per favorire anche prevenzione, informazione, promozione della cultura della legalità, sensibilizzazione e consapevolezza dei fattori di rischio. Importante risalto è stato dato al mondo della scuola, chiamata ad effettuare interventi formativi per gli studenti e poi anche i servizi sociali comunali. All'ASP sarà costituito in prefettura un tavolo interistituzionale, una vera e propria cabina di regia, su progetti di prevenzione ed iniziative di sensibilizzazione. Poi con il protocollo di intesa saranno costituiti gruppi di lavoro interdisciplinari in provincia di Messina, grazie anche alle sollecitazioni dei magistrati, per focalizzare l'attenzione sulle devianze da dipendenze patologiche dei più giovani.